La proposta è chiara, semplice e ad onor del vero neanche tanto nuova. Chiedere il versamento del 2% ai contribuenti che hanno un reddito lordo superiore ai 120.000 euro. L'ha formulata il leader del Partito Democratico Dario Franceschini ed è stata subito ribattezzata Tassa sui ricchi, anche se in verità non si può parlare di una vera e propria imposta, in quanto si tratterebbe di un contributo una tantum, da versare oltre alle tasse già previste. L'anno di riferimento sarebbe il 2008. Il contributo verrebbe calcolato sull'imponibile IRPEF, che è la tassa sui redditi delle persone fisiche. Dai dati ufficiali del Ministero dell'Economia il provvedimento riguarderebbe 200.000 contribuenti su 40 milioni, cioè lo 0,5%. Di questi circa 150.000 sono dipendenti e pensionati, mentre solo 61.000 gli imprenditori, i professionisti e gli autonomi. Queste le cifre ufficiali, che non tengono naturalmente conto dell'evasione. Secondo lo stesso Ministero, 250 miliardi di euro sfuggono al fisco ogni anno. Tornando alla proposta di Franceschini, secondo i calcoli con l'unatantum si andrebbe a costituire un fondo da 500 milioni, da destinare alla povertà estrema e da mettere a disposizione delle associazioni e dei comuni. Di questi, almeno 5 milioni arriverebbero direttamente dai parlamentari, che rientrano quasi tutti nella fascia di reddito individuata. Primo fra tutti il Premier Silvio Berlusconi, che nel 2007, ultimo dato disponibile, ha dichiarato un reddito di 139 milioni e 245 mila euro e che con la tassa sui ricchi sarebbe chiamato a versare all'erario altri 2 milioni 780 mila euro. Lo seguirebbero a ruoto il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti e il Ministro della Difesa Niazio Larussa, con contributi rispettivamente di 22 mila e 11 mila e 400 euro.